In Europa non era molto preventivabile qualche tempo fa, il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia, l'anno scorso l'ho passato la sua festicciola e mi avevano esonerato un paio d'ore prima, quindi l'umore diciamo, ecco mi dispiace di non essere lì con Olivia ma l'umore è un po' opposto e quindi devo essere anche grato, ogni tanto bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto che a volte siamo fortunati, non solo ricordarci di quando le cose vanno male, quindi sono contento, soddisfatto e voglio approfittarne. Ogni allenatore arriva, porta qualcosa di suo, qualcosa può cambiare, io ho studiato parecchio la Roma di Mourinho perché dovevo sapere dove andavo a mettere le mani e soprattutto l'ho vista sempre perché prima era un semplice tifoso, quindi le vedevo sempre le partite, non saprei dire quanto è differente, Roma che ha ottenuto comunque con Mourinho ottimi risultati, soprattutto in Europa, quindi spero che da quel punto di vista non sia troppo distante perché è una squadra che è arrivata in fondo per due anni consecutivi, quindi dobbiamo prendere anche esempio da quello che è stato quel percorso, però poi dopo ogni allenatore ha la sua visione, la sua idea, le sue preferenze, quindi qualsiasi allenatore porterà in una squadra, darà sempre qualcosa di diverso da quello precedente. No, riguardo Pellegrini io valuto quello che ho visto da quando sono arrivato qui, penso che sia più corretto, penso che ho più strumenti, più attrezzi in mano per poterlo giudicare, sia come essere umano, come guida per i propri compagni, perché comunque è il capitano, sia per quello che ho visto tutti quanti in campo, io non potrei essere più contento, continuo ad essere un esempio, continuo a migliorare, ma non solo fisicamente o tecnicamente, ma ogni partito, ogni allenamento fa sempre più cose simili a quelle che vorrei vedere in campo io, quindi sintomo che ci capiamo, che capisce quello che chiedo, come tanti altri giocatori, come tutti gli altri giocatori, perché io posso solo ringraziarli per l'attenzione che stanno mettendo, per quello che poi mi stanno dimostrando anche nelle partite.